Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Come promesso andremo a vedere dei piccoli upgrade molto economici per lo structure deck darkwood Questa sarà la parte 1, poi andremo a vedere magari la parte 2 perchè comunque potenzialmente potrebbe essere unito al layer Al momento non ho messo appunto il love darkness per vedere e aspettare un attimino come andrà a parare Appunto ho messo delle piccole aggiunte come sempre ma sono proprio piccole piccole perchè comunque lo strutture è veramente molto valido Quindi sono quelle che servono a dare una marcietta in più Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale di passare in social descrizione Prima di ne sempre aggiornate con mondo di lunghi, grazie mille e partiamo Ho messo le carte veramente a cazzo dei gatti Veramente perchè ho messo un vostri con l'effetto baggi e ex Tutto alla randomissima Allora partiamo con i danger, non solo bigfoot danger perchè sono praticamente più I migliori da mettere nel mazzo Sono abbastanza economici, c'è il bigfoot, il nessi sono molto E ormai hanno dei prezzi abbastanza fattibili Al limite c'è il chupacapra che non costa niente dello lanciare addosso Poi ce ne stanno tanti altri Nella speranza che vengano riprentati anche i due da structure o cg Comunque sono delle scelte ottime Con 4-5 euro dire tanto riesci comunque a prendertene tantissimi Quindi molto bene Poi allor of darkness peschino perfetto per il mazzo Perchè peschi 2, banni 1, quelli che banni poi ti vai a riprendere tranquillamente Trading, se vuoi magari un mazzo con più livelli 8 potrebbe essere la soluzione giusta Io in realtà non lo utilizzerei perchè comunque scarti di costo Se te lo negano Dolore Darker 1 è il no more, questo è più di side Però comunque averlo può sempre essere utile Numero 60 che va In base alle necessità Trigger ad 8 effetti Ed è molto forte perchè ho speciale Peschi 2, scarti 1 Però se peschi scarti draw face Se speciali salti main face Ovviamente se poi magari ti vai a prendere anche una pollusa Che ti consente di avere un negate in più Potrebbe essere buono Quindi è ancora meglio Ovviamente dato che è una carta con un budget leggermente superiore non l'ho messa Però comunque sapete che ci sono totte soluzioni Così anche Crossship, in realtà a me Crossship non è che mi piace Però alcuni la giocano Non l'ho messa Poi vabbè Baguska ed Exciton Comunque possono essere delle soluzioni abbastanza interessanti Poi andiamo a vedere un ripartino tattico Quello con Super Poli Quindi potete andare anche a prendere un ripartino Super Poli Magari giocare di lei con i vari target Quindi Starveen Venom Non li ho messi tutti perché Caberai non mandava Comunque ho messo i più scontati Che sono stati anche riprintati Quindi hanno un prezzo ancora inferiore Quindi la Costa Pella Mondragon of the Swamp Starveen Venom Poi c'è anche quello nuovo che penso costitierà Quindi non l'ho messo per questo motivo Potrebbe essere un riparto abbastanza importante Allora Non so se si potrebbe andare anche di side con questo Però comunque sia da me che da side potete fare entrambe le cose Comunque sono delle soluzioni abbastanza importanti Tanto sono abbastanza generiche Per concludere le ultime carte Allora Ho messo Ho messo due Dark E volevo mettere la guida Link Dell'Underground Quella che tributi Una che metti un segnalino In cui la carta non viene spaccata Viene rimosso il segnalino Però beh Allora I Nightmare che sono sempre verdi Quindi tutti a quattro Ce ne ho messo uno Ma rappresentano tutti a quattro Nightmare Fenice Cebero Crifone E Unicorno Poi Sayuja Che è forte Perché comunque Tu speciali tantissimo Con Darkward Riesci ad avere 4-5 mostri sul terreno In pochissimo tempo E riesci anche a calartene altri Quindi il pescare tot E rimischiare il mazzo tot E' una parte fondamentale Della strategia Può essere veramente molto utile Anche curioso Può essere abbastanza importante Comunque si fa abbastanza facilmente Ci permette anche di immaginare Magari di prenderci un grafa Che abbiamo tolto via Un rainbow Da poter rievocare tranquillamente Poi la tour Dell'Underground Che non mi ricordo mai il nome Io la chiamerò Guida Tour Link Perché ok Dark Che comunque è un ottimo link E oscurità Che ci permette anche poi Di aggiungerci che roba alla mano Quando viene rotto Molto forte L'inizio della fine Praticamente se abbiamo 7 Mostri oscurità Al cimitero Ne bandiamo Ne bandiamo 5 E peschiamo 3 Fortissimo Perché al cimitero Abbiamo un sacco di roba Di mostri Ne giochiamo tantissimi Veramente molto forte E' una carta Che è un meme Però effettivamente Potrebbe essere utile Nekomane King Perché Durante il turno Dall'avversario Se viene mandata Al cimitero A causa di un Suo effetto Si va in hand Seruli Più Nekomane King Seruli Discarta Nekomane Loppo va in hand Quindi teoricamente E' fattibile E' una soluzione Simpatica E potrebbe starci Perché comunque Se lo fanno E' brutto Se viene attivato E' bruttissima Cioè a parte L'avversario Gli fai Gli riesci a fare Gli seruli Al turno suo E te lo scala Il problema Che Appunto Bisogna attivare L'effetto Nel turno Dell'avversario Quindi vai di grafa Quindi vai magari Cioè Il grafa fusione Ovviamente che Il suo effetto Diventa che ti scarta Uno Deve avere il culo Di farti scartare Nekomane Ma ora non mi ricordo Se con grafa Se tu che scarti O è l'oppo Che ti scarta Oppure scarti Non mi ricordo L'effetto è Tu scarti una carta Quindi dovresti scartarla tu Oddio C'ho un Un'esia fulmina Istantanea Comunque Potrebbe essere Una soluzione carina Perché se Riesce L'oppo va in hand E' bellissima Sta cosa Scarti Nekomane King Boom Wine and Face Eccezionale Vabbè Tipo Annullato da Call By the Grave E' bellissimo Vabbè Ovviamente Poi ci sarà anche Roba tipo Richiamato dalla tomba Staple generiche Che vabbè Ce le abbiamo Tutte Non mi pareva Il caso Di metterle Tutte quante Ho messo giusto Dark Rural No more Vabbè Ok Detto Questo Ragazzi Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Se magari avete altre soluzioni Scrivetele nei commenti Poi andremo a vedere anche Quelle con le error E tutti i supporti nuovi Perché c'è anche la nuova link Sempre inerente All'underground Che è la Reporter Quindi anche quella Potrebbe essere utile Detto questo Fatemi sapere appunto Voi cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo Al prossimo video E un saluto a tutti